La storia dell'uomo si articola in molti modi, attraverso la civiltà, attraverso gli spostamenti, le navigazioni, attraverso il lavoro, ma anche in particolare attraverso lo sviluppo delle città, gli agglomerati urbani, le riunioni di uomini e donne che iniziano a vivere assieme, a dare origine prima a villaggi e poi a città sempre più grandi, che si relazionano con l'ambiente, con la campagna, che sviluppano nuove forme di lavoro, di ricerca anche scientifica e tecnica e che ci porta fino alle città di oggi, enormi a volte, problematiche a volte e spesso anche da ripensare. Oggi iniziamo un percorso che intitolerei Storia della città, una storia appunto dello sviluppo urbano, mi verrebbe da dire, dell'umanità soprattutto in Europa, poi non solo in Europa ma soprattutto in Europa, dall'antichità a fine giorni nostri. Sarà una panoramica veloce per punti su alcune situazioni emblematiche nella storia che però ci aiutano a capire meglio proprio come si è evoluta la civiltà, l'umanità, la società anche tramite queste città. Cominciamo dalle città greche, la polis in particolare, subito dopo la sigla. Andiamo a cominciare. Consorcio del caffè nella solita tazza, con la scritta andiamo a cominciare, con me ci sono i miei compagni in avventura, c'è Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea e là in fondo il mostro peloso che non so quanto rimarrà ancora con noi perché mio figlio dice che deve riportarlo a scuola quindi forse ci abbandonerà presto. Io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegnone, liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e da un paio d'anni, anzi ormai più di un paio d'anni, su questo canale realizzo delle video spiegazioni di storia, filosofia, educazione civica che seguono in parte il programma che si fa alle superiori ma ogni tanto si lanciano anche in qualche approfondimento e argomento collaterale. Quindi sono lezioni che in genere possono andare bene per gli studenti, medie, superiori, università, perfino per chi prepara i concorsi perché in molti mi hanno scritto proprio dicendo di prepararsi al concorso per diventare insegnanti anche in piccola parte grazie a questi video e poi per chi è curioso e appassionato. Oggi come dicevo nella premessa iniziamo un percorso nuovo che penso durerà qualche video, ne ho previsti almeno cigue ma forse me ne vengono anche di più perché vorrei percorrere con voi nello spazio di qualche settimana un percorso alla scoperta della storia delle città, approfondire proprio come erano strutturate alcune città della storia in varie epoche storiche, dalla città greca alla città romana, quella medievale fino ai giorni nostri. Perché questo? Perché effettivamente la città è lo specchio della civiltà, la città è la forma che l'uomo si è dato, una delle forme non l'unica perché poi c'è la campagna, poi ci sono altre situazioni ma una delle forme più rilevanti, ormai il giorno nostro è ormai sempre più rilevante per capire l'organizzazione sociale, l'organizzazione politica e anche lavorativa delle comunità. Capire come le città si sono evolute almeno nell'Europa occidentale, in Europa, nel nostro mondo ci aiuta a capire anche dove siamo arrivati e forse anche dove vogliamo andare da qui in poi perché il tema delle città è un tema importante per il nostro presente ma soprattutto anche per il nostro futuro. Le nostre città sono sempre più caotiche, problematiche, viviamo sempre più a contatto, l'abbiamo visto anche con la pandemia, quanto il vivere in luoghi dove c'è grande densità di popolazione porti problematiche anche nuove, inedite o che solo in parte erano edite in passato, poi c'è il grande clamoroso e significativo tema dell'inquinamento che si sta iniziando ad affrontare in maniera sempre più forte ma che merita ulteriori riflessioni. Tra l'altro, lo dico come premessa e poi verso la fine di questo lungo percorso lo approfondiremo, lo spunto per questa serie di video mi viene anche da un progetto a cui sto collaborando e di cui vi parlerò più in dettaglio appunto verso la fine ma già vi lo anticipo, un progetto che vede coinvolta la mia città, la città di Lovigo che è una piccola città in Veneto ma che vede coinvolto anche alla lontana, diciamola così, Renzo Piano, grande architetto, senatore a vita che da qualche anno dedica il suo stipendio da senatore a vita per finanziare e lavorare alla riqualificazione di alcune zone periferiche, periferie a volte anche difficili di varie città italiane. Il progetto si chiama G124, questa è una pubblicazione del 2019 che racconta alcuni dei progetti svolti negli anni scorsi, ecco quest'anno tra 2022 e 2023 il progetto coinvolgerà appunto anche Lovigo, io con la mia scuola stiamo seguendo questo progetto, stiamo collaborando, siamo in contatto con chi se ne occupa, con gli architetti dell'Università di Padova, a volte professori più navigati, a volte giovani perché ci sono molti giovani coinvolti, stanno lavorando a questo progetto anche alcuni miei studenti, faranno una loro piccolissima parte e allora vale la pena riparlarne. Partiamo da lontano, partiamo con il nostro piglio storico, ovviamente quindi faremo la storia delle città ma poi magari alla fine parleremo anche delle città di oggi, parleremo dei problemi delle città di oggi anche delle città italiane, sia quelle grandi perché il progetto ha coinvolto città come Palermo, come Milano, come Roma, Padova stessa e magari anche città più piccole come Rovigo ma che hanno anche loro le loro periferie, i loro quartieri un po' abbandonati a loro stessi che si possono recuperare, riqualificare da un punto di vista architettonico ma anche soprattutto da un punto di vista sociale. L'aspetto interessante di questo progetto è questo, che cerca di capire la storia di una città e di riqualificarla non solo architettonicamente che vabbè è importante ma non è l'unico fattore ma anche socialmente per istituire un ambiente vivibile alla città e questo lo fa in parte anche collegandosi a quartieri storici delle città, parleremo infatti anche quando parleremo della città moderna di Padova, una zona che si lega alla città di Augusta in Germania, alla famiglia di Fugger, in descrizione vi metto un link insomma ci sarà molto da parlare ma oggi partiamo dagli inizi, partiamo dalle prime città intanto una veloce menzione di quali furono le prime città e poi parliamo soprattutto della Polis Greca che è il primo grande agglomerato urbano di un certo peso anche storico che incontriamo almeno in Europa. Prima di tutto però cos'è una città? Eh, qua arriviamo già alle cose difficili perché non c'è accordo tra gli studiosi su come si possa definire una città, nel senso che ogni studioso dà una definizione levemente diversa, diciamo che la città è un centro abitato di dimensioni non troppo modeste e cosa voglia dire modeste? si può discuterne, alcuni dicono che una città deve avere almeno 15.000 abitanti, alcuni dicono deve averne almeno 40.000, 30.000, 50.000, sono variazioni di ogni tipo, però diciamo un agglomerato urbano, un centro in cui vivono almeno alcune decine di migliaia di persone e spesso anche di più, in cui ci si occupa di attività in prevalenza non agricole, extra agricole, ciò che restringe la città dal villaggio di campagna a questo, che in città magari ci sono anche in parte attività collegate all'agricoltura ma per la maggior parte si lavora ad altri settori, settore artigianale nell'antichità, settore industriale nelle città più moderne. Quali sono però state le prime città della storia e come si va configurando la polis greca? Allora prima di tutto diciamo questo, la prima città di cui abbiamo memoria, di cui abbiamo dei reperti che possiamo definire già come città è stata probabilmente Gerico in Cisordania. Gerico presenta dei reperti che ci danno notizie di un centro abitato che risalgono addirittura al settimo millennio avanti Cristo, quindi molto 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 indietro nel tempo. Ma abbiamo di poco successive anche altre città sempre nella zona medio orientale, Ur ad esempio prende una, poi più avanti Babilonia, insomma varie città soprattutto nella culla della città, quella che viene sempre chiamata così, cioè nella zona della Mesopotamia, Teltighi e Leufrate, un po' più là verso la Palestina, insomma in quella zona lì, qualcosa anche verso l'India. Sempre però stiamo parlando di millenni prima di Cristo. Per vedere invece città degne di questo nome in Europa bisogna aspettare i micenei sostanzialmente, quindi civiltà greca ancora antica. I micenei soprattutto tra il XVI e l'XI secolo prima di Cristo avevano già fondato alcune città, città che però non erano ancora città nel modo più moderno del termine perché erano più che altro cittadelle fortificate verrebbe da dire dove risiedeva il signore, il sovrano locale con il suo entourage, erano città di difesa, cittadelle difensive, non ancora città dove ci fosse un artigianato, una popolazione cospicua, affari eccetera. Per vedere città invece di questo tipo più moderno bisognerà aspettare la fine dell'età micenea e quindi si sviluppano le vere e proprie poleis soprattutto tra l'XI e l'VIII secolo a.C. Lì iniziano a svilupparsi poi tra il VI e il V secolo abbiamo l'età d'oro delle poleis, abbiamo Atene, Sparta, Corinto, Delfi e via andando, città che avete sentito nominare mille volte e che avevano anche differenze abbastanza rilevanti l'una delle altre ma che avevano alcuni tratti comuni. Oggi senza fare troppo la storia di Atene o di Sparta tenteremo di trarre questi tratti comuni, questi aspetti sia architettonici sia sociali civili che ci permettono di capire come si viveva in Grecia e come si viveva in particolare in queste città tra la parte alta e la parte bassa della città perché intanto dobbiamo dire questo, le città greche, quelle sviluppate dopo il 1000 a.C. e poi ingranditesi tra il VI e il V secolo sono città che sono facilmente divise in due parti, già a vederle se potessimo idealmente raffigurarcele le veremo divise in due zone ben distinte, da una parte la città alta dall'altra parte la città bassa, da una parte cioè l'acropoli che era la parte alta della città, dall'altra parte invece l'asti che era la parte bassa della città, vediamole una a una. La parte alta, l'acropoli, era la parte dove si svolgeva la vita religiosa degli abitanti della polis. Erano lì localizzati infatti i templi, i santuari principali della città. si trovava in alto, al di sopra di una collina o di un'altura perché effettivamente quello era il nucleo iniziale di sviluppo della città. Inizialmente le città erano nate lì e solo dopo si erano sviluppate a discese, in un certo senso alle pendici, a valle di queste piccole alture. L'acropoli quindi era luogo sacro, era il luogo dove c'erano i templi, dove c'erano gli edifici più importanti dal punto di vista religioso. Più in basso c'era appunto questo Asti, l'Asti, che era la parte bassa della città in cui c'erano le abitazioni, in cui c'erano gli edifici della vita politica, pubblica, sociale, in cui c'era soprattutto l'Agora. L'Agora era la piazza, la piazza del mercato, in cui trovavano spazio però anche tante altre attività, oltre al mercato, attività civili, attività politiche e così via. La netta distinzione tra queste due parti era poi, e viene evidente anche dal fatto che la parte alta era recintata da mura, piuttosto solide sempre. La parte più bassa inizialmente non aveva le mura, le mura vennero aggiunte poi a seconda del città successivamente, in una seconda fase o una terza fase. Segno che la parte, il cuore, diciamo così, la parte veramente rilevante della città era la parte alta, almeno inizialmente, anche segno del fatto che la vita religiosa, più indietro andiamo nel tempo, più peso ha per i greci. La parte bassa successiva invece prese forza, prese slancio, prese importanza col passare di secoli. Segno che l'aspetto religioso cede un po' alla volta il passo, anche se gradualmente e mai in maniera troppo netta, all'aspetto politico e sociale. Questo lo vediamo in tante città greche, Arateni, primo luogo dove effettivamente la politica democratica ha un peso rilevantissimo, ma anche in altre città. C'è da dire che queste polis sono, come già sapete, delle città-stato in effetti, cioè città che si reggono autonomamente rispetto a tutte le altre, che hanno un rapporto particolare col contado, che hanno un rapporto con la campagna, che si autoregolano e che fanno a sé. Quindi, ovviamente, l'agorà dove ci si incontra, dove si discute, dove si fa anche filosofia, diventa il centro pulsante un po' alla volta della vita cittadina, perché è dove si fa politica. Non perché per forza dappertutto ci sia democrazia. Democrazia è l'aspetto fondante, soprattutto ad Atene, ma, questo è vero, in moltissime città c'è alquanto meno l'isonomia. Questo è forse il tratto caratteristico della polis, dal punto di vista della vita civile. Isonomia vuol dire uguaglianza davanti alle leggi. Vuol dire che ogni cittadino, e poi vedremo cosa vuol dire essere cittadino in queste polis, ogni cittadino gode di diritti particolari e gode di l'uguaglianza, del criterio di uguaglianza davanti alle norme. E quindi c'è parità di diritti, quindi c'è uguaglianza, c'è un accordo tra i cittadini, potremmo anche dire così. Per questo è una città-stato, perché è una città che si autoregola e in cui però tutti gli abitanti, almeno quelli che godono dei diritti politici, che non sono tutti e poi lo vedremo, sono uguali. Sono una sorta di patto tra fratelli. Ed è una caratteristica importante delle città questa, perché la vedremo ripetersi anche più avanti nel tempo, pensate ai comuni medievali, dove poi chiaramente disparità sociali ce ne sono, differenze sociali ce ne sono, ma quelle città che nasceranno e tenteranno di rendersi autonome nel Medioevo, in qualche misura si richiameranno anche a un'idea simile a quella delle polis greche. Un patto tra simili, un patto tra fratelli, un patto tra persone che hanno gli stessi diritti per vivere insieme, pregare insieme, perché alla fine l'aspetto religioso è ciò che cementa, almeno inizialmente, queste polis e difendersi insieme dai nemici, ovviamente, perché la rimessione poi della conflittualità con le altre polis, con le altre città, è abbastanza importante. Quindi Acropoli sopra, Agorà e Asti sotto, chiaramente nelle Asti c'erano anche molte attività artigianali, perché la città già dal tempo di Grecia e poi soprattutto negli secoli successivi, come vi dicevo già nella premessa, è il luogo in cui si fanno attività extra agricole, quindi ci sono botteghe, quindi ci sono commerci, quindi c'è anche gente che fa filosofia. Ad Atene in particolare nasceranno le scuole filosofiche, tutte spesso legate all'Agorà, perché si discute nella piazza, si muove lì, ricordate Socrate quanto non girava per le strade di Atene e non fermava i passanti proprio nell'Agorà, ma lo stesso dicasi degli stoici di tante altre scuole che arrivano successivamente. Quindi queste due rimessioni sono rimessioni fondamentali, ma non sono le uniche, attenzione, perché nella polis greca c'è un rapporto molto forte tra città e campagna, d'altronde dovete pensare che queste città sono città-stato, autonome, e quindi devono garantirsi un'autonomia anche degli approfiggionamenti. Una città da sola non sopravvive mai, perché la città da sola non produce il cibo sostanzialmente, la città da sola produce elementi artigianali, produce lavori, produce prodotti di legno, di ferro, commerciali, commercia, fa partire le navi e fa portare le navi, ma bisogna anche procacciarsi il cibo. Il cibo è frutto del settore primario, dell'agricoltura e dell'allevamento. Come si fa a garantirsi il cibo, ebbene, appena finiva l'asti, cioè questa zona alla base, attorno all'altura su cui sorgeva l'acropoli, si irradiava da lì in poi la campagna. La campagna veniva chiamata Cora, ed era il territorio circostante di campagna coltivato attorno alla città. Questa Cora era divisa in genere in piccoli appezzamenti, della misura di 4-5 ettari per lo più, affidati ai contadini liberi, che a volte li coltivavano da soli, a volte, o a famiglie, a nuclei familiari, altre volte si facevano anche aiutare molto spesso da schiavi, perché esisteva la schiavitù e tra poco ne parliamo, che li aiutavano appunto nel lavoro. Quindi c'era la Cora, che era questa zona dove si coltivava, e poi c'era uno scambio continuo con la città, ovviamente perché era proprio al confine della città, limitrofa la città, dopodiché più in là c'erano i cosiddetti Comai, che erano villaggi agricoli, che sorgevano appunto più agli estremi, diciamo, un po' più lontani dalla città vera e propria, dove si riunivano spesso i contadini. Ultimo baluardo, prima della fine del territorio vero e proprio della polis, era la cosiddetta Escatia. Questa Escatia era una zona su cui poi tra l'altro gli storici hanno opinioni a volte un po' diverse, ma si ritiene generalmente una zona non coltivata. Una zona lasciata libera al pascolo, quindi chiunque poteva portare le bestie al pascolo lì perché comunque non era di nessuno, era terra di confine non coltivata, oppure veniva usata per far legna, per andare o a caccia o appunto a tagliare gli alberi e far legna che potevano servire per la campagna e per la città. Questo era ciò che delimitava tutta la polis greca. Ripeto, la zona dell'acropoli era il cuore pulsante, delimitata da mura, il cuore sacro della città, ma poi le mura un po' alla volta si espansero ovviamente. Poi spesso, come accadeva anche all'Atene e anche in altre città, c'erano poi dei collegamenti particolari verso, che so, il porto. Ad esempio, l'Atene aveva il Pireo che era collegato appositamente al resto della città, ma generalmente la panoramica era questa. Ora, le città nascono piccole, nascono come appunto acropoli, si espandono un po' alla volta. A un certo punto però è anche evidente che la città non si possa espandere all'infinito, perché man mano che si scende dall'altura si creano case, piazze, botteghe, tutto attorno, ma poi ci vuole anche la parte di campagna, ovviamente, quindi non si può edificare all'infinito, perché poi bisogna avere la parte coltivata che possa fornire cibo alla città. E certo, la parte coltivata si può ampliare, ma anche lì fino ad un certo punto, perché poi ci sono i boschi, perché poi ci sono zone dove è più difficile coltivare. Insomma, c'è un limite anche a questa espansione della città. In effetti, dopo che nell'undicesimo, decimo, nono secolo a.C. le poleis iniziano a crescere di numero e a svilupparsi in varie zone della Grecia, tra il VI e il V secolo ci si rende conto che l'espansione e anche probabilmente l'aumento demografico delle poleis porta a star stretti in queste città, nel senso che non c'è cibo abbastanza per tutti, non c'è spazio abbastanza per tutti. Questo favorisce il fenomeno delle colonie, cioè cosa accade? Nelle città, quando si vede che la pressione demografica inizia a diventare troppo forte, i giovani maschi, soprattutto, vengono invitati, favoriti, incitati a lasciare la città e andare altrove a fondare una nuova città. Una nuova città, appunto una colonia, che comunque mantiene dei legami di fratellanza, di vicinanza, di alleanza politica con la città madre, con la città da cui questi giovani sono partiti, spesso non si va via da soli ovviamente, ma si va via in gruppo. Questo porta al fenomeno della colonizzazione in altre zone della Grecia, ma poi anche alle fori della Grecia, ad esempio nel sud Italia o in Sicilia, dove coloni greci vanno, oppure anche sulle coste dell'Ionia, della Turchia, dove proprio si sviluppano le prime scuole filosofiche, tra l'altro. Vanno in cerca di fortuna, arrivano là, fondano una nuova città e un po' alla volta queste città si sviluppano, a volte assumono anche dimensioni molto considerevoli, replicando il modello della città d'origine. Certo, nella città d'origine molto spesso l'espansione è avvenuta un po' in maniera veloce e poco organizzata, proprio perché aumenta la popolazione, bisogna costruire nuovi edifici, bisogna coltivare nuove terre e quindi manca un'organizzazione, un piano organico di sviluppo delle città, in quelle vecchie, in quelle di più antica origine. In quelle nuove, invece, nelle colonie si può ragionare già in partenza dando una struttura, una fisionomia alla città, organizzando meglio le risorse, organizzando meglio gli spazi, scegliendo anche il luogo in cui fondare una città, fondare una colonia, magari appunto sulla costa, dove i traffici possono approdare in maniera più facile e migliore. Quindi abbiamo questo fenomeno, poleis più antiche, grandi, spesso molto grandi, ma spesso anche un po' più disorganizzate e disorganiche, proprio per questo sviluppo a volte imprevedibile, poleis più nuove, le colonie, magari non tutte nella Grecia vera e propria, ma ai margini della zona italiana attuale, nella zona turca attuale, ma più organizzate, più metodicamente programmate ed edificate. Ma quanto erano popolose queste città? Beh, qui abbiamo delle stime ovviamente, ma le dimensioni variavano molto. In genere le poleis non superavano le poche decine di migliaia di abitanti, generalmente la maggior parte stava sulle 30-40 mila unità di abitanti, considerando tutti, considerando cittadini, schiavi, eccetera. Quindi dimensioni paragonabili a quelle di Rovigo, visto che siamo partiti da Rovigo. Ma in alcuni casi le dimensioni aumentavano, ad esempio sappiamo che Atene al tempo di Pericle, quindi nel suo momento di massima gloria, in descrizione vi metto anche un link storico all'Atene di Pericle, contava probabilmente attorno ai 300 mila abitanti, quindi è una città di tutto rispetto, sicuramente alla sua epoca una delle più grandi città del mondo. Però Atene rappresenta un po' un'eccezione, perché sappiamo che un'altra città molto popolosa fu Siracusa, che però arrivò a circa 100 mila abitanti, quindi un terzo di Atene molto meno. E poi sappiamo che Corinto, ad esempio, non superò mai 60-65 mila abitanti e che Agrigento, anche lei, non superò mai 60-65 mila abitanti, almeno in questa epoca. E poi sappiamo che Sparta addirittura aveva ancora meno abitanti, insomma, generalmente poche decine di migliaia. Poi vedremo anche la composizione sociale di questi abitanti. Bisogna dire che però, nonostante le variazioni, alcune più numerose, alcune meno abitate, tutte le città avevano alcuni edifici che ritornavano, che si ripresentavano di città in città. Il più importante forse era il Pritaneo. Il Pritaneo era un edificio che originariamente si trovava nell'acropoli, nella parte alta della città, poi in alcuni casi venne spostato da basso, verrebbe dire, cioè nell'asti. Questo Pritaneo era il luogo in cui tradizionalmente sedeva il primo magistrato della città, ma soprattutto c'era il focolare sacro, cioè c'era il fuoco sempre acceso che rappresentava direi il cuore sacro della città. Non a caso quei giovani che andavano a fondare delle colonie altrove, quando partivano, portavano con loro proprio un po' di quel fuoco, in modo poi da fondare nella colonia un nuovo creato, un nuovo Pritaneo, e lì mettere quello stesso fuoco che si era originato nella città di partenza, per segnare anche simbolicamente il legame con il luogo d'origine, perché il fuoco era lo stesso, il fuoco sempre acceso che bisognava mantenere sempre acceso per mantenere viva la città, per proteggere la città. Quindi un edificio con qualche vestia sacrale che poi però aveva anche funzioni politiche. Ad esempio nel Pritaneo venivano in genere accolti gli ambasciatori, i personaggi di rilievo stranieri o anche cittadini per essere celebrati. Quindi era un luogo anche di rappresentanza importante, il luogo civile più importante della città. Di fianco al Pritaneo poi c'erano vari edifici politici più invece nell'Asti, nella zona dell'Agora. In particolare c'era il Buleterion che era il luogo della Bulè. La Bulè era il consiglio cittadino. Tutte queste città che fossero democratiche oligarchiche avevano in genere un consiglio più o meno ristretto di cittadini che partecipavano alla vita politica e prenevano le decisioni. Spesso erano poche decine di persone che si trovavano nel Buleterion. Il Buleterion era l'edificio dove si riunivano. In genere si trovava proprio nell'Agora e aveva pianta quadrata quasi dappertutto. E soprattutto all'interno di questo edificio c'erano disposti i sedili in cui sedevano i consiglieri. Questi sedili di solito venivano disposti lungo tre lati del quadrato del Buleterion. Cioè si prendeva una forma di questo tipo sostanzialmente o quasi a ferro di cavallo. Molto spesso erano proprio disposti anche a ferro di cavallo i sedili in modo che i consiglieri quando si sedevano, quando facevano politica e discutevano delle misure da prendere si potessero guardare tutti in faccia in qualche modo. Terzo edificio ricorrente anche se non presente dappertutto perché dipendeva dalla costituzione della città, dal fatto che fosse una città democratico oppure no, era l'Ecclesiasterion dove si riuniva l'Ecclesiaste che era l'Ecclesia, scusate l'Ecclesiaste un libro della Bibbia, l'Ecclesia, l'Ecclesia era l'Assemblea Popolare. Mentre il Buleterion era il consiglio un po' più ristretto, i cittadini, dove c'era democrazia come ad Atene ad esempio, si poteva riunire anche tutta l'Assemblea Popolare, cioè tutti i cittadini atenesi, voleva dire tutti quelli che godevano dei diritti politici che comunque erano una parte solo della popolazione. Queste assemblee popolari si riunivano a volte in edifici appositamente disegnati per questo scopo, anche se ovviamente era difficile creare edifici di questo tipo perché pensate ad Atene quando aveva 300.000 abitanti, certo non 300.000 cittadini, solo abitanti, ma anche in alcune decine di migliaia di cittadini era difficile riunirli tutti assieme, quindi a volte si sfruttavano dei teatri o dei grandi spiazzi che venivano usati per riempire con la popolazione, oppure appunto teatri, oppure in certi casi anche edifici appositamente edificati a questo scopo. Questi erano gli edifici più ricorrenti, ma chi poteva godere i diritti politici? Chi erano i cittadini che quando c'era l'Ecclesia Stadion partecipavano alle scelte politiche e potevano ambire eventualmente a tentare nella Boulet? Allora, parliamo di questi abitanti delle polis. Chi viveva in queste polis e che differenze c'erano? Beh, in primo luogo bisogna distinguele tra cittadini e non cittadini, o meglio, tra chi deteneva il potere, deteneva dei diritti politici e chi non deteneva dei diritti politici. I diritti politici, quindi lo status di cittadino, era riservato ai maschi liberi che prestavano servizio militare e che partecipavano alle funzioni religiose. Questo era il dovere del cittadino, ad Atene, a Sparta, un po' dappertutto. Servire nell'esercito, spesso anche con una leva molto lunga, poteva durare anche dai 20 ai 40 anni in molti casi, e partecipare alla vita religiosa della città. Chi faceva queste cose, ed era ovviamente libero, non era in una condizione di schiavitù, ed era figlio di cittadini della stessa città, godeva dei diritti politici, quindi poteva, nel caso della democrazia, partecipare alle votazioni, proporre leggi e votare. Se no, poteva ambire alle cariche che a volte, a seconda dei casi, potevano essere assegnate. Ovviamente questi cittadini erano solo una parte della popolazione, perché, anche la società di oggi, prendete solo i maschi, cioè i maschi sopra a una certa età, sono i maschi che non sono in condizioni servili, che sono liberi, eccetera. Capite che si parla di una parte della popolazione. C'erano molti esclusi, questo voglio dire. Quali erano questi esclusi? Beh, in primo luogo erano escluse le donne. Le donne non avevano lo status di cittadine. Molto spesso venivano trattate come, diciamola così, esseri umani di serie B? Perché venivano gestite dal maschio, sostanzialmente, in quasi tutte le polis greche. Cosa vuol dire gestite dal maschio? Che venivano gestite dal padre finché erano in età giovanile e dopo il matrimonio venivano gestite dal marito. Molto spesso i matrimoni erano anche combinati, cioè erano frutto di un patto tra il padre e il futuro marito che si accordavano sul matrimonio della figlia e della futura moglie, quando questa figlia non poteva risolto mettere bocca sulle scelte del padre. Questa figlia poi era soggettata all'uomo, aveva il compito di gestire la casa e la famiglia e aveva ben poche occasioni anche di vita sociale. Molto spesso solo gli spettacoli teatrali, come vedremo, erano momenti in cui le donne potevano avere un po' di vita sociale, ma per il resto la vita nella gorà, la vita anche politica, la vita filosofica, la vita culturale era destinata principalmente ai maschi. Le donne quindi ovviamente non avevano diritto di voto, non avevano diritto di prendere parte alle varie assemblee, quindi prima escluse le donne, seconda esclusi gli stranieri, quelli che non erano nati in città e non erano figli di cittadini erano stranieri, anche se i greci generalmente distinguevano tra due tipi di stranieri. C'erano gli stranieri che erano comunque provenienti da altre polis greche, quindi si riconoscevano nei valori della polis, parlavano la stessa lingua, erano comunque stranieri perché non appartenevano alla polis ma figli dello stesso retroterra culturale e poi c'erano invece gli stranieri più stranieri di tutti, cioè i barbari, quelli che provenivano dal di fuori della Grecia. I barbari in genere avevano ben pochi diritti, anzi quasi nulla. Gli stranieri di origine greca invece potevano avere in certi casi dei diritti, erano trattati in maniera diversa, bisogna dirlo, da città a città. Ad esempio l'Atene erano generalmente ben trattati, si diceva, perché potevano risiedere anche in città, assumere lo status di meteci, così venivano chiamati all'Atene, a patto che avessero una sorta di patrono, un protettore, un cittadino atenese, cioè che garantisse per loro e a patto che pagassero una apposita tassa di residenza che dovevano versare alle casse dello Stato. Questi meteci ovviamente non avevano diritto di voto, perché appunto, vi dicevo, l'editto di voto aspettava solo i cittadini, non avevano molti diritti in città, ad esempio non potevano sposare generalmente donne atenesi, se non in casi molto particolari, eccetera, però erano tenuti, potevano prestare servizio militare se risiedevano a lungo in città, cosa che garantiva loro anche una certa integrazione in città. I meteci in genere erano ben trattati, erano ben voluti, infatti, se pensate anche le lezioni che abbiamo fatto di storia della filosofia, abbiamo visto spesso ad Atene filosofi stranieri che si trasferiscono ad Atene e vengono ben accolti tutto sommato ad Atene. Abbiamo parlato quasi tutti i filosofi che abbiamo visto, almeno dai sofisti in poi, sono spesso stranieri, pensate allo stesso Aristotele, pensate ai sofisti, pensate agli stoici, eccetera, che si trasferiscono ad Atene e ad Atene vengono tutto sommato ben accolti, poi magari hanno qualche beca, qualche problema, ma spesso perché sono schierati politicamente con una fazione o con l'altra, ma dal punto di vista dell'accoglienza Atene non ha nulla reinvidiare ad altre città. C'è da dire che questi che arrivano, questi filosofi, sono tutti filosofi di cultura e lingua greca, quindi sono stranieri appunto di serie A, diciamo, non stranieri di serie B. Però, ecco, Atene era una delle città più accoglienti, c'è da dire che non tutte le città pare fossero ugualmente accoglienti. Comunque, gli stranieri non avevano diritto di voto neppure loro. Quindi, scusate, stranieri e donne, ne abbiamo detti. Terzo tipologia, gli schiavi. Ecco, gli schiavi erano esclusi anche loro, ovviamente non avevano diritto di voto perché, vi ho detto, i diritti politici spettavano ai cittadini liberi. Questi schiavi rappresentavano una percentuale variabile della popolazione a seconda delle situazioni, a seconda delle città. In certe città rappresentavano un terzo della popolazione, in certe città un quinto, in certe città erano anche invece più numerosi dei cittadini, dipendeva da città a città. E anche il loro trattamento era differente da città a città. Ad esempio, a Sparta avevano un trattamento molto duro, di solito. A Atene, invece, si reputa che molto spesso avessero perfino qualche diritto. Erano sì di proprietà del padrone, ma, ad esempio, a Atene non potevano essere picchiati o uccisi impunemente. Quindi il padrone non poteva fare tutto quello che voleva di questi schiavi. Questi schiavi, di solito, erano prigionieri di guerra, sconfitti nelle varie battaglie e assoggettati. Raramente erano anche condannati per certi reati che subivano la riduzione in schiavitù. Altre volte erano figli di schiavi. Però, generalmente, gli schiavi rappresentavano una parte cospicua della popolazione cittadina. Quando vedete un terzo, un quinto, a volte più di metà della popolazione era schiava. Perché? Perché su questi schiavi si basava anche in buona misura l'economia cittadina. Nel senso che i ricchi cittadini ateniesi potevano, ad esempio, fare filosofia proprio perché c'era chi in casa lavorava per loro, cioè gli schiavi. Perché erano esentati dal lavoro fisico, dal lavoro per procacciarsi il cibo, eccetera, a quello pensavano gli schiavi. E questo rendeva il cittadino libero di filosofare e di occuparsi di altre cose. Quarta categoria di esclusi, gli esuli. Cioè quelli che erano sì stranieri, ma erano stranieri perché erano stati cacciati dalla loro città. C'erano stranieri che semplicemente viaggiavano, si spostavano e quindi non avevano, non c'erano particolari preclusioni nei loro confronti nelle città greche. Ma quando invece un cittadino veniva esiliato, cacciato dalla sua polis, questo cittadino perdeva molti diritti. Perdeva i diritti di origine. Nella polis perdeva anche gli averi perché quando veniva cacciato doveva abbandonare la propria casa, la propria famiglia in molti casi. E quindi era un greco disperso quasi, un apolide verrebbe da dire usando una terminologia più moderna. Uno senza polis. Apolide deriva proprio da quella radice lì. Per questi apolidi, per questi esuli, la vita era molto difficile, era molto complicata. Nel senso che non avevano diritti, potevano essere accolti da nove polis, poleis, ma dipendeva molto dalla volontà della polis. Nessuno era tenuto a dare protezione a un esule. Nessuno era tenuto a dare protezione a un apolide. Quindi a volte c'era qualche appoggio e questi esuli si salvavano, a volte invece si conannavano a una vita di stenti. C'è da dire che c'era anche questo rischio, c'era anche questa possibilità. Quali erano le proporzioni? Beh, abbiamo qualche dato su Atene. Atene certo è un caso un po' particolare nel panorama delle polis greche, ma è quello di cui abbiamo più storie, più menzioni. Quindi sappiamo ricostruire alcune vicenne e anche alcuni dati. Quindi prendiamoli un po' come non simbolo per forza di tutte le polis greche, ma insomma un dato su cui riflettere. Noi sappiamo che ad esempio nel momento in cui Atene superava i 300.000 abitanti, appunto l'epoca di Pericle, circa 320.000 abitanti, sappiamo che i cittadini, o meglio, le famiglie dei cittadini contavano circa 175.000 persone. Intendo famiglie con cittadino, quindi maschio e adulto, con diritto politico, ma anche le relative mogli e i figli. Quindi anche bambini che chiaramente non votavano, i bambini che poi non avrebbero mai votato. Ecco, con quelle famiglie lì si arrivava a 175.000 persone, quindi più della metà. Circa 30.000 all'epoca erano i meteci, quindi un circa 10% della popolazione erano stranieri residenti e poi il resto, 115.000, erano schiavi. Quindi capite, gli schiavi rappresentavano un terzo in questo momento storico circa della popolazione atenese. Il resto era ripartito tra cittadini e loro famiglie e meteci, meteci chiaramente molti di meno della popolazione. Questo era un esempio di ripartizione, ma c'è da dire anche questo. Vi ho detto prima, parlando delle varie situazioni, che le donne non avevano diritto di voto e avevano anche una vita sociale molto limitata. Ecco, dobbiamo parlare, per chiudere questo video brevemente, anche della vita sociale, perché certo si celebravano riti religiosi nell'acropoli, certo si faceva politica nell'agorà, certo c'era anche il mercato nell'agorà, quindi si comprava, si vendeva, si viaggiava, eccetera, ma poi c'erano anche i momenti di svago sicuramente. Queste città erano pensate anche per avere dei luoghi in cui svagarsi. Il luogo per eccellenza nelle polis greche dedicato allo svago, ma anche alla cultura, era il teatro. Il teatro anzi divenne simbolo, per certi versi, della cultura greca del tempo. Il teatro spesso veniva ricavato da una zona in pendio naturale, dove si costruivano poi i gradoni del teatro a forma semicircolare. In genere c'era davanti a queste pedane, a questi gradoni dove si siedevano gli spettatori, c'era la cosiddetta orchestra, che era la zona semicircolare dove si svolgeva la scena. Nell'orchestra c'era il coro, che commentava tutte le vicende narrate e mostrate durante l'operazione teatrale, durante la rappresentazione teatrale, e poi ovviamente c'erano gli attori. Gli attori erano sempre tutti maschi, anche per i ruoli femminili, perché era fatto di vieto alle donne di recitare, e indossavano generalmente delle maschere. A questi spettacoli partecipavano anche le donne, anche i bambini, ed erano momenti di socialità importanti, di vita culturale anche importante della città. La città non era solo un centro di lavoro, di scambio con la campagna, un centro artigianale e religioso appunto, ma era un luogo in cui la vita si declinava in tutte le sue forme. E questa sarà la caratteristica poi delle città anche in epoche più avanzate, più moderne. Anche nelle città dell'epoca poi Ftaro antica e poi medievale e poi moderna avranno tutte queste dimensioni. Una dimensione religiosa, una dimensione artigianale economica, una dimensione politica, una dimensione culturale e di svago. Basta questo brevemente serviva per dare una prima panoramica sul primo esempio di città importante, città-stato in questo caso, la polis greca, anche poi di cui abbiamo parlato anche in storia, ne parleremo ancora, di cui abbiamo parlato anche in filosofia e ne parleremo ancora perché poi proprio ad Atene in particolare e a Sparta, in particolare questi aspetti che sono più generali, troveranno concreta attuazione. Ma mi interessava mettere giù qualche punto fermo, dare una panoramica in un tempo abbastanza contenuto di quello che è la polis greca. Ci sposteremo presto nelle altre fasi storiche e vedremo presto le altre città come si sono evolute lungo il tempo, con le loro caratteristiche, con la loro dimensione sia civile di organizzazione degli spazi, quindi architettonica e urbanistica, sia con la loro dimensione sociale, di gente che viveva poi in quelle città e che gestiva gli spazi per fare cose, per fare politica, per fare artigianato, per fare economia, per fare svago e cultura. E ne parleremo ancora comunque, ma per il momento ci fermiamo qui. In descrizione trovate come al solito i titoli che sono comparsi qui, così da riascoltare un pezzo oppure un altro della spiegazione, trovate i link agli altri video che ho citato, trovate i link alle playlist principali, ai social network, alla newsletter settimanale, se volete rimanere informati su quello che faccio e poi seguire anche questa catena di video dedicati alla storia delle città. In più, se vi interessa, se vi piacciono questi video, se li apprezzate, trovate anche i modi per sostenerci se volete farlo, tramite libri che potete comprare, interessanti, parliamo anche di libri di storia che vi suggerisco come bibliografia. Trovate anche i link a corsi interessantissimi, a pochi euro che, se vi piacciono, sono sulla creatività in varia natura, potete fare e ci date una mano se li fate e poi trovate anche il modo per donare, se volete donare qualche euro. Basta ho finito, ci vediamo presto per altri video di questa serie dedicati alla storia delle città e poi filosofia, storia, educazione civica, tutto il resto. Ciao, alla prossima!